Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti Industria italiana autobus di Flumeri resta al palo e c'è davvero da preoccuparsi se perfino l'irriducibile passionaria Silvia Curcio comincia a perdere la speranza e soprattutto la pazienza di fronte ai comportamenti della proprietà. Il presidente Stefano Del Rosso, ha riferito la Curcio, aveva annunciato il rientro in attività di 40 lavoratori, al contrario ne sono stati riportati in cassa integrazione altri 40, dunque si è raddoppiato il saldo negativo. Che dire, è tutto un gioco di colori, cara Silvia, se Del Rosso continua a muoversi nella zona grigia non resta altra soluzione che farlo nero. Grazie. 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 Grazie.